Buonasera e ben ritrovati con l'informazione Flash di New Sicilia, i principali titoli di questo pomeriggio. La polizia ha arrestato una donna di Caltanissetta per il tentato omicidio del compagno. L'indagata avrebbe cercato di uccidere l'uomo accoltellandolo più volte, perforandogli un polmone. A Ragusa un giovane di 29 anni è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e distorsione ai danni dei propri genitori. Considerato un soggetto socialmente pericoloso, il giovane è stato portato in carcere. Una turista è stata soccorsa dai tecnici del gruppo alpino e speleologico siciliano dopo essersi rotta una caviglia durante un'escursione a Salina. La donna è stata poi trasportata in elicottero all'ospedale Paparto di Messina. Calciomercato tutto fatto per il trasferimento di Roberto Insigni al Palermo lunedì le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà ai Rosa Nero per tre anni. Chiudiamo con il meteo, continua il campo di alte pressioni in Sicilia che anche nella giornata di domani vedrà tempo stabile ed assolato ovunque, temperature rialzo specialmente nelle zone interne. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.